Oggi è sabato 2 aprile, siamo con Giovanni in Cammino, in positivo, ospite naturalmente di questo inserto settimanale è Don Osman. Don Osman Raffael Prada, dal pulpito alla ribalta televisiva. Dai suoi paesini devastati dal sisma, Roiopiano, Roiocolle, Roiopoggio, Santa Rufina, alla vittoriosa partecipazione alla corrida. Un modo come un altro per ricordare all'Italia che la ricostruzione non è ancora partita ed è una sfida che è tutto il paese unito e coesa a dover vincere. Don Osman evidentemente con i media ci ha preso gusto ed ogni sabato mattina sarà protagonista di una trasmissione tutta per lui sul radio L'Aquila 1. Buona la prima, un po' di emozione, ma tanti contenuti incentrati sulla vita dei giovani aquilani e non solo dopo il sisma del 6 aprile 2009. Don Osman, da Roio nel cuore del cratere sismico, purtroppo devastato, alla corrida, ma sempre con un grande sogno nel cuore. Sì, il grande sogno l'ho portato finalmente lì alla corrida, è stata una bellissima opportunità, infatti qualcuno mi ha detto proprio alla corrida. A me non mi importava proprio il palco, ma importante era il messaggio e i tempi televisivi che sono molto importanti. Io ho lanciato un messaggio sull'Aquila, è stato accolto da tutta l'Italia perché la stessa sera che ho vinto la puntata, ho ricevuto tantissimi email, tantissimi messaggi di solidarietà verso questa città. Gli italiani ancora ci accompagnano, sono con noi, sanno veramente come è la nostra realtà e quindi ci stanno accanto, pregano per noi e augurano che questa città prima o poi possa rialzarsi. Come a dire, forse in televisione è meglio invitare dei veri terremotati e non dei figuranti come accaduto a Forum? Questo mi è dispiaciuto tantissimo, veramente, perché io da una parte ho voluto essere molto discreto e anche usando senza buttare fango da nessuno, però ho lanciato un messaggio di solidarietà anche mostrando un volto sincero della città. Mi dispiace che qualcuno vada là per quattro soldi e dica, non lo so, è sotto un copione, questa cosa mi è dispiaciuto tantissimo. Poi mi è dispiaciuto tantissimo dalla chiesa proprio perché, guarda, è una donna intelligente. Se lei, come dice lei, che è stata, diciamo, solidaria con l'Aquila subito dopo l'emergenza, dopo il terremoto, doveva essere più coerente. Si registra la trasmissione in un container dove la radio, che da dopo il terremoto non ha mai fatto mancare la sua voce, tiene duro e va avanti e, ben inteso, tra i suoi ospiti solo persone vere, nel caso post-terremotati doc, non figuranti a gettone che recitano quello che per fortuna non sono. Vani Biordi, nuovo appuntamento su Radio L'Aquila 1 con Don Osman. Sì, è un grande appuntamento, voluto tantissimo dal nostro editore, Giovacchino D'Annibale. Siamo felici di ospitarlo perché è un personaggio che ha uno spessore veramente straordinario. È una persona che si adopera molto per gli altri, è molto seguito dai suoi fedeli, ha lasciato un bel ricordo nella chiesa di Assergi, poi si è spostato a Roio. Adesso speriamo che con questa trasmissione riusciamo in qualche modo a dare un messaggio. Ci vogliamo rivolgere ai giovani perché la radio, si sa, spesso e volentieri viene seguita dai giovani. Quindi con Don Osman, appuntamento aperto per tutti i giovani, chi vuole può intervenire in diretta con qualsiasi mezzo. Ello D'Annibale, Radio L'Aquila 1 è stata veramente, dopo il terremoto, un'importante voce per tutti gli aquilani e non solo? Sì, detto da me ovviamente può sembrare banale, però in realtà esattamente è così. Dopo il sisma, anche per il fatto che siamo una radio, quindi rispetto ad altri media più facilmente realizzabile, ci siamo subito messi in moto e grazie anche alla protezione civile e comunque al Comune dell'Aquila, che in qualche modo ci hanno cercato per avere un minimo di supporto per quanto riguarda le comunicazioni, e abbiamo rimesso in piedi la radio nel giro di qualche giorno, ovviamente inizialmente in modo molto precario, eravamo al Com 1 in via Scarfoglio, poi piano piano ci siamo attrezzati un po' meglio, adesso siamo in questo container dal maggio del 2009 che siamo qui e comunque siamo, come dicevi tu, la voce dell'Aquila da quella maledetta notte. In base alle tante telefonate che ricevi, ecco, qual è lo stato d'animo degli aquilani? Molta rabbia adesso, prima c'era molta desolazione, demoralizzazione, adesso c'è molta rabbia perché vorrebbero rivedere questa città, non dico come era prima perché è quasi impossibile, però volerla vedere rinascere, questo è molto importante. La rabbia contro chi non fa nulla, contro chi continua a litigare, contro chi continua a discutere delle cose sciocche, invece di rimboccarsi le maniche, invece di pensare alle cose serie, invece di dare una mano veramente a chi ne ha bisogno. Molti aquilani sono rientrati nelle loro case, molti purtroppo vivono una situazione di difficoltà perché non vivono più quella realtà di prima e a una certa età, un conto è che sei giovane, sei giovane quindi hai un futuro davanti, hai una vita davanti, ma una persona di una certa età, un cinquantenne, un sessantenne, io penso anche agli anziani perché li ho nel cuore, sinceramente è molto molto difficile affrontare una situazione così dura. Grazie a tutti.